Smantellato dalla squadra mobile di Salerno l'impero economico-commerciale dell'imprenditore capacese Roberto Squecco. Corruzione, trasferimento fraudolento di valori, peculato, interruzione di pubblico servizio, favoreggiamento, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, e intestazione fittizia di beni, i reati contestati a vario titolo a dipendenti e legali rappresentanti di varie società autonome ma gestite di fatto dallo stesso Squecco. Sono in tutto 13 gli avvisi di garanzia notificati stamane nell'ambito dell'indagine condotta dalla Polizia e dalla Questura Salernitana, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, partita lo scorso giugno a seguito del corteo di ambulanze per festeggiare l'elezione di Franco Alfieri a sindaco di Capaccio Pestum. Oltre a Squecco, già condannato per reati di criminalità organizzata in passato, tra gli indagati figura anche l'ex moglie Stefania Nobili, attuale capogruppo di maggioranza, così come i titolari di varie società, per lo più intestate, apparenti e collaboratori prestanome, riconducibili al gruppo Squecco, tra cui la Croce Azzurra Onlus. I poliziotti, infatti, all'estio di diverse perquisizioni eseguite questa mattina, presso le sedi legali delle società coinvolte, il Municipio e l'Asr di Salerno, hanno sequestrato 23 automezzi, tra cui 20 ambulanze, dislocate presso le sedi di Agropoli, Rettifilo e Licinella di Capaccio Pestum, di proprietà dell'Associazione di Volontariato, con la quale l'Asr sospese a Doras tutti i rapporti convenzionali all'indomani della sfilata a sirene spiegate nel centro cittadino. Sequestrato anche l'immobile di proprietà comunale alla Licinella, concesso ad uso di postazione per le ambulanze, anche se l'ente civico di recente ne aveva chiesto la restituzione. Così come il Lido Kennedy, chiuso ad inizio estate, la cui società di gestione fu colpita da interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Salerno. È in questo caso che la consigliera comunale Nobili risulta indagata, in quanto avrebbe partecipato all'elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. Il sequestro preventivo dei beni riconducibili agli indagati e alle società da questi gestite, disposto dal GIP Gerardina Romaniello del Tribunale di Salerno, ammonta complessivamente a circa 3 milioni di euro. Non figurano tra gli indagati funzionari o tecnici del comune di Capaccio Pestum. Nei guai, invece, alcuni autisti e medici assunti presso la Ollus in quanto alla guida delle ambulanze durante il corteo nel centro cittadino. Nonché per aver dichiarato il contrario agli inquirenti, ovvero per aver testimoniato che quella sera i mezzi non erano in servizio. Beh, si può dire che noi siamo sempre presenti negli eventi. Voi sapete l'origine di questa operazione. Stamattina, in occasione di un evento in cui era successo che c'era stata una manifestazione di ambulanze che non era sembrata molto opportuna dal punto di vista della sua realizzazione. E' ancora un'operazione di sequestro. Un procedimento in atto l'abbiamo fatto alle dipendenze dell'autorità giudiziaria. Vedremo di approfondire. Però è un segnale dell'attenzione che la Polizia di Stato, tutte le forze di polizia, in questo caso la Polizia di Stato, danno a ogni evento che succede. Quindi, dicevo prima, quando succede qualcosa e ci si meraviglia, voi vedete che a distanza di tempo la risposta della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia c'è sempre. Grazie. Grazie.